Buongiorno da Edo, beh allora in mezzo a quest'estate, in mezzo a questo caldo, questa stanchezza che è proprio dilagante perché non parlare di qualcosa di fresco, di frizzantino, per rimetterci un po' in attività e in movimento la cosa fresca e frizzante di oggi è una news che riguarda il governo che spia i propri cittadini una cosa, cosa potevo scegliere di più frizzante di così e eccola qua, un bel articolo di The Register che ne parla di che parliamo? Parliamo della Francia, che sapete in questo periodo è messa a ferro e fuoco da alcuni gruppi di manifestanti abbastanza scontenti di come il governo li ha trattati negli ultimi anni tant'è che è esplosa questa rivolta che il governo sta contenendo con altrettanta violenza e repressione ma qui non parliamo di questo, parliamo di una cosa che sembra essere anche qua triggerata da questo ma in realtà ah no, è una cosa nata prima che però ben si sposa con questo clima cioè una volontà del governo francese di andare a spiare letteralmente i device dei propri cittadini i device intendo gli smartphone naturalmente dei propri cittadini spiare, attivare il microfono, attivare la videocamera e anche di controllare la posizione sembra la Cina, no? Invece no, è la Francia nella civile Europa, nel civile occidente ma andiamo con ordine quindi questo disegno di legge che è stato approvato ora dai parlamentari francesi appunto in questo clima di rivolte garantisce, garantirà alle forze dell'ordine il diritto di spiare i sospetti tramite, cito testualmente l'attivazione remota di un dispositivo elettronico senza la conoscenza o il consenso del suo proprietario e questa è proprio la versione del senato francese di questo disegno di legge che è stata approvata secondo Le Monde, ecco qua l'articolo che trovate anche su Le Monde che si intitola La Francia permette alla polizia di spiare attraverso i telefoni, gli smartphone quindi l'assemblea generale ha approvato questa versione anche se con alcuni emendamenti che richiederanno al senato di approvare le modifiche prima che possano diventare legge e quindi proprio la polizia francese ha il diritto di attivare le telecamere e i microfoni da remoto nonché di raccogliere i dati sulla posizione dei dispositivi di chi? dei sospettati di aver commesso reati punibili con almeno 5 anni di carcere in queste situazioni la polizia potrà raccogliere questo tipo di dati dagli smartphone per un massimo di 6 mesi e di qualsiasi dispositivo connesso quindi smartphone, laptop, anche le automobili e quindi questi dati possono essere utilizzati per la sorveglianza la sorveglianza attiva sempre secondo Le Monde i legislatori del partito Renaissance Renessence sicuramente detta benissimo del presidente francese Macron hanno aggiunto poi diversi emendamenti e questa è stata soprannominata la carta dei ficcanaso la snoopers charter che quindi richiedono che questo spionaggio sia usato soltanto quando giustificato dalla natura e dalla gravità del crimine e anche allora soltanto per un periodo di tempo ritenuto rigoroso e proporzionale escludendo le professioni considerate sensibili tra cui medici, giornalisti, avvocati, giudici e naturalmente i parlamentari che non possono essere presi di mira da questa legge e naturalmente un sacco di polemiche un sacco di voci contrarie a questo disegno di legge e infatti il gruppo francese per i diritti digitali La Quadratur du Net penso che si dica così insomma ha espresso forti critiche quindi dice il gruppo in un momento in cui la violenza della polizia è solo in aumento quando i movimenti politici vengono imbavagliati dalla sorveglianza e dalle perquisizioni massicce i parlamentari stanno per autorizzare la trasformazione di tutti gli oggetti collegati in spie della polizia e tra l'altro visto che questo articolo di The Register e anche altri che sono andato a leggere per esempio proprio quello di Le Monde non citano esattamente come questa sorveglianza attiva sia resa possibile ho cercato un pochino ho trovato questo articolo di Engadget che si intitola appunto l'assemblea francese fa passare questo disegno di legge per attivare i telefoni per attivare le videocamere e i microfoni dei telefoni per la sorveglianza e qui viene citata proprio la Quadratur du Net che nota come questo accesso remoto forse potrebbe essere consentito potrebbe dipendere da vulnerabilità di sicurezza quindi proprio dalla security dei device quindi secondo questo gruppo la polizia farebbe l'exploit di falle di sicurezza dei telefoni invece di riferirle ai costruttori dei telefoni o dei sistemi operativi o dei programmi perché siano patchati no invece li sfrutterebbe attivamente questo credo che sia una supposizione di la Quadratur però visto che non si parla di software da installare beh qua invece si parla proprio di sfruttamento di falle di sicurezza potrebbe essere questa la modalità che è ancora più bastarda se ci pensate è ancora più subdola perché invece di sfruttare una cosa che i cittadini possono vedere possono capire possono installare possono permettere no si va a sfruttare delle vulnerabilità senza peraltro dirlo ai costruttori dei telefoni e dei sistemi operativi e naturalmente il ministro della giustizia francese Eric Dupond Moretti ha detto che questo bill questo disegno di legge si applica soltanto a poche dozzine di casi per anno e quindi non è uno spionaggio di governo per i cittadini per qualunque cittadino accusato di crimini ma va a indirizzare alcuni casi molto pericolosi potenzialmente letali e salverà delle vite e chiude chiude questa sua dichiarazione dicendo siamo molto lontani dal totalitarismo di 1984 ricordate il romanzo di Orwell 1984 dove c'erano i telescreen del governo del partito dove il big brother osservava osservava qualunque movimento delle persone e ascoltava qualunque conversazione qui invece dice no siamo lontani però naturalmente come faranno i cittadini a sapere se sono oggetto di spia o no se il governo sta attivamente sfruttando delle falle senza comunicarlo si passerà da un giudice quindi si spera che il giudice sarà in grado di determinare la gravità o meno delle accuse che pendono naturalmente però sono accuse non sono non sono sentenze quindi chiunque può essere accusato di un fatto molto grave poi naturalmente si spera che la cosa funzioni bene e questa insomma è la notizia frizzantina che mette un po' di freschezza nella giornata di oggi volevo chiudere anche questa puntata invece dicendo una cosa positiva dal punto di vista della privacy quindi abbiamo detto una cosa che va a minacciare la privacy dei privati cittadini francesi e questa invece è una news che va a sostegno della privacy va nella direzione della tutela della privacy degli utenti e qui si parla di homebrew homebrew il software per gestire i pacchetti installare i pacchetti molto diffuso su macOS installare l'installazione di pacchetti da linea di comando bene ha appena annunciato sulla sua documentazione che gli analytics di homebrew ora saranno raccolti in modo totalmente anonimo e saranno mantenuti su istanze di influxdb in Europa e non passeranno più da google analytics tutti i dati contenuti in google analytics saranno distrutti e vengono collezionati i dati per usi statistici per migliorare il programma per verificare ovviamente i crash e saranno mantenuti su questa istanza per 365 giorni peraltro ci sono anche i link che fanno notare come tutti questi dati aggregati naturalmente sono disponibili per la consultazione potete andare a vedere i dati aggregati degli analytics che sono raccolti potete anche andare a vedere ovviamente essendo un software open source come viene eseguita questa raccolta di dati quindi nel file analytics.rb di appunto homebrew c'è tutto il codice che vi fa vedere quali sono i dati raccolti in che momenti vengono raccolti come vengono raccolti e naturalmente viene fatto in un processo separato in modo che non influisca sulle prestazioni del processo base che poi tra l'altro fallirà fallisce silenziosamente in caso di assenza di connessione si può naturalmente decidere di fare opt out da questi analytics basta esportare una variabile d'ambiente che è homebrew no analytics 1 quindi basta settare a 1 questa variabile d'ambiente e analytics e brew non raccoglierà più gli analytics si può anche alternativamente lanciare brew con brew analytics off e questo spegnerà anche in questo caso gli analytics quindi un fatto insomma positivo un'attenzione alla privacy dei propri utenti è come i dati vengono collezionati sapete tutti il casino con google analytics i problemi con google analytics in europa e qui insomma una soluzione alternativa e trasparente di un'analisi di dati fatti per contribuire al miglioramento di un software di un programma spiegati perché vengono fatti quali dati vengono raccolti sono consultabili c'è il codice aperto che fa vedere in che modo vengono raccolti e in che modalità quindi molto bello no contrasto un pochino con quello che avviene in francia ma considerazioni politiche a parte insomma mi volevo fare questa doppia news che spero vi sia interessata vi sia stata di gradimento questo lunedì e quindi io vi ringrazio per avervi seguito fin qui si nota che sono stanco forse si nota forse si nota ma in ogni caso domani non ci sarò perché sono impegnato ma sicuramente durante la settimana qualche altra puntata la faccio quindi ci rivediamo prima della pausa estiva e niente grazie alla prossima fate bravi e non uscite nelle ore troppo calde ciao